Maya, Luca, venite. Caffè per te? Si. Allora, facciamo un'intervista. Intervista? Si. Principe, cosa stai facendo? Sto mescolando il caffè. E perchè caffè? Perchè caffè? Perchè dopo pranzo devo sempre bere un caffè. Si. Per stare sveglio, per digerire meglio. Per sopportare il legno. Allora, sei venito qua solo per prendere il caffè? Si. Ho trovato un buonissimo caffè. Nostro caffè, Gianni Frasi, la torrefazione giamaica. Uno dei migliori caffè al mondo. Qua? Si. Benissimo. Luca, degusta. Greta non prende il caffè. Perchè non è italiana. Non è vero. Si. Non è vero. Allora, questo si chiama prendere il caffè. Prendere il caffè. Tregunta. Dicata. Tregunta.